Ben trovati ad un nuovo appuntamento con la salute e con l'informazione sanitaria. Continuiamo nel nostro percorso di conoscenza delle associazioni di volontariato Allus che si occupano di trapiantati. E' con noi oggi ospite in studio il dottor Aldo Giacardi che è il vicepresidente dell'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Dottore, entriamo subito nel vivo e diciamo ai nostri tre spettatori di che cosa si occupa la vostra associazione. La nostra associazione si occupa di assistere ai trapiantati sia nel pre che durante che post trapianto. Oltre a questa mission ha anche la possibilità, se c'è, di contribuire alla ricerca scientifica del Centro Trapiantati di Fegato di Torino. Eventualmente anche tramite le pubblicazioni, i congressi e gli stage che fanno i nostri medici a volta all'estero. Ah, quindi voi raccogliete anche fondi che poi vengono finalizzati alla ricerca? Esatto, i nostri fondi sono in parte legati a dei progetti che presentiamo alle fondazioni, alla tavola valdese, agli stessi nostri trapiantati e anche ai privati che ci sovvenzionano. A volte contribuiamo parzialmente, non completamente, però lo facciamo. Già, un buon aiuto. Ma lei ha parlato di supporto ai trapiantati. Quali sono le principali criticità o problematicità che esprime un malato, o meglio un trapiantato? Dunque, si divide in due parti. La prima è la criticità logistica. Noi abbiamo trapiantati che vengono addirittura da fuori regione, di conseguenza hanno bisogno soprattutto di aver risolto il problema dell'abitabilità. E noi abbiamo una residenza, la residenza Cimabue, che mettiamo a loro disposizione per poter, ad esempio, venire e attendere il trapianto magari un mese o due mesi prima, perché in attesa dell'organo. Poi diamo anche questa possibilità a coloro che vengono per i controlli programmati appunto in questa residenza. Dal punto di vista logistico anche li aiutiamo a risolvere i problemi burocratici, tipo l'ottenimento della pensione, tipo i rimborsi che le ASL fanno, le ASL di appartenenza, che possono essere anche di Napoli, di Caserta, di Bari, insomma. Ci informiamo e diamo delle soluzioni. Per quanto riguarda la seconda parte, quella clinico-terapeutica, di cui mi interesso particolarmente io, perché sono anche consulente medico-scientifico, quest'anno abbiamo fatto 310 consulenze telefoniche, la maggior parte delle quali hanno portato alla soluzione del problema anche telefonicamente. Altre volte invece faccio da trade union tra la nostra associazione e il nostro dei hospital, chiedendo di risolvere certi problemi clinici che non possono essere che risolti a livello ospedaliero con degli esami adatti. Ma c'è tanto bisogno di condivisione quindi da parte dei trapiantati, di trovare qualcuno con cui parlare. Esattamente, di fatti noi abbiamo anche la signora Siletto, che è una trapiantata, che li assiste anche dal lato psicologico, indirizzando loro a tutte le problematiche future cui andranno incontro, sia prima che durante che dopo il trapianto. Ma lei parlava di residenza messa a disposizione di un paziente trapiantato. In questo caso, io come possibile trapiantato, devo essere iscritto alla vostra associazione, devo pagare una retta, cosa devo fare? Non c'è nessun obbligo da quel lato lì. Noi diamo a disposizione a prezzi calmirati questa residence e poi loro possono venire e pagano la retta come un residence. Come ci si fa a mettere in contatto con la vostra associazione? Perché io mi immagino di essere un trapiantato che viene da una località molto lontana, che può essere la Sicilia o la Sardegna, e vengo chiamato a Torino per fare il trapianto. A questo punto io cosa faccio? È l'ospedale che mi indirizza o io già come trapiantato magari in qualche modo sono a conoscenza dell'esistenza delle associazioni? Normalmente essendo contattati prima del trapianto sanno della nostra esistenza, hanno anche i relativi numeri telefonici e di necessità. Se non lo sanno, normalmente nel nostro di hospital il coordinamento dice che hanno questa possibilità. e quindi non ci sono problemi da quel lato. Per quanto riguarda i pazienti che devono essere trapiantati, chiaramente quando presupponiamo che possano essere trapiantati, un mese o due mesi prima li facciamo venire a Torino, quelli di fuori regione, per un semplice motivo. Perché quando c'è un donatore, lo veniamo a sapere noi magari alle 6 di sera, allora li avvisiamo e in due ore devono essere le molinette, cosa che è impossibile se stanno a Caserta o se stanno a Bari. Ecco il perché dell'importanza della residenza Cimabue o di una residenza, è importante trovare una residenza a Torino per cui debbono venire a Torino ed essere a disposizione in tempi brevissimi per essere preparati al trapianto. Per cui la vostra associazione, essendo nazionale, è operativa su diverse sedi? Esattamente, abbiamo 13 delegazioni sparse in 9 regioni d'Italia. Ed esiste una sorta di coordinamento di rete? Esattamente, tramite email, tramite telefono, eccetera, ci colleghiamo, praticamente siamo collegati in tempi rapidi con le sedi che hanno necessità o di cui abbiamo... Della vostra associazione fanno parte solo i trapiantati oppure anche persone, tra virgolette, che vogliono fare del volontariato e si sentono più portati per fare volontariato nella vostra associazione. Noi abbiamo 30 volontari che seguono e assistono, e non sono trapiantati, assistono i nostri trapiantati nei reparti, quotidianamente. Bellissimo. Alle molinette e non solo nel reparto nostro del trapianto, del reparto chirurgico, ma anche nel reparto medico dove li preparano per essere messi in lista trapianti. che c'è dal professor Saracco, che ha sostituito adesso il professor Rizzetto. Quindi, diciamo, per fare volontariato una persona scrive alla vostra associazione, fa un corso di formazione, fa qualcosa... Perché io penso che sia un paziente particolare, il paziente trapiantato, e quindi richieda anche una particolare formazione il volontario. Non è che io oggi mi sveglio e dico, voglio fare volontariato, prendo e vado dentro in un ospedale. Vi devo contattare e sarò formato adeguatamente. Esattamente, viene, compila un modulo. Noi abbiamo un tutor che lo accompagna nel reparto per un mese, fa vedere e lo istruisce a come deve comportarsi per evitare infezioni, a lui si intende, ma anche per evitare che infetti i trapiantati, perché sono immunodepressi, quindi più facilmente soggetti a infezioni, e dopo un mese, se idoneo, e allora lo lasciamo libero e può essere solo a gestire la sua funzione. Il volontario che tipo di attività svolge? Il reparto, quindi, sarà un'attività di supporto, ma di relazione d'aiuto, forse? Sì, d'aiuto. Cioè, lui non ha nessun potere né di terapeutico... Di ascolto, forse. Di ascolta e, se è necessario, magari lo porta a fare le radiografie, lo porta a fare le visite, lo accompagna, conoscendo bene i percorsi, eccetera. E quindi è per questo che ci vuole un mese di preparazione per conoscere anche i vari corridoi delle molinette. Invece, lei parlava di problemi clinico-terapeutici, che spesso sono risolvibili telefonicamente. Cosa significa problemi clinico-terapeutici? Ad esempio, uno può telefonare da, faccio un esempio, da Caserta, dice, guarda, io ho la febbre, la febbre è da un po' di tempo, che ho questa febbre, cosa devo fare? Allora si pongono delle domande... Ma questi sono comunque trapiantati? Sono trapiantati, sì, sì, sì. Ma a volte anche sono dei semplici parenti, dei trapiantati, così. In base alle domande che noi facciamo, individuiamo grosso modo la causa e se necessario li consigliamo di andare al pronto soccorso o di rivolgersi al proprio medico curante con più o meno urgenza. A volte addirittura, magari sono delle banalità, ci dicono che hanno dimenticato di prendere la pastiglia di immunosopressione, allora diciamo, guardi, per adesso lasci perdere, questa sera continui così, poi se mai si fa un controllo dell'immunosopressione tra qualche giorno per vedere che non abbia avuto un calo della... Quanto pensa sia importante per un trapiantato avere la possibilità di confrontarsi con la vostra associazione e di avere queste risposte? È molto importante perché il trapiantato è un paziente, soprattutto nei primi periodi, molto fragile dal lato psicologico e sentirsi supportato o aiutato da qualcuno ad avere un punto di riferimento per lui è molto importante e tranquillizzante. La ringrazio dottore, il tempo a disposizione è terminato, ma proseguiremo magari in un'altra puntata, andiamo un po' più a fondo di questa associazione che credo che abbia un ruolo molto importante. La ringrazio per essere stato con noi, invito i nostri telespettatori a seguirci nella prossima puntata. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.